Il progetto TAI, Ti aiuto io, è stato avviato nel 2022 su iniziativa dell'Università di Verona e in collaborazione con Cestim e la rete Tante Tinte. Si tratta di un progetto che intende coinvolgere le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea del nostro Ateneo in un'attività di volontariato rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori che si trovano per qualche motivo in difficoltà con le materie di studio. Questi studenti sono segnalati dagli insegnanti e poi dalle scuole al Cestim che li abbina agli studenti e le studentesse del nostro Ateneo. A partire da questo abbinamento parte un tutorato a distanza, un aiuto allo studio, in cui lo studente universitario più esperto aiuta il ragazzo o la ragazza delle superiori a superare le difficoltà che sta incontrando nel suo percorso formativo. Per coloro che sono interessati all'insegnamento come possibile sbocco professionale, il progetto TAI rappresenta un'ottima occasione per testare sul campo in che cosa consista di fatto l'insegnamento. Inoltre l'università si fa carico di una formazione essenziale che viene fornita agli studenti affinché possano affrontare questa esperienza e questo percorso nel modo più efficace. Fin dei primi anni ci siamo interessati non solo degli immigrati ma anche delle loro famiglie, dei loro figli in particolare dell'inclusione scolastica. Queste poche ore, si tratta di due ore, un'ora e mezza alla settimana però date in maniera continuativa, sono un piccolo contributo però molto importante che spesso dà a questi studenti o studentesse in difficoltà quella spinta, quella motivazione per riuscire nel loro percorso scolastico. Abbiamo partecipato a questo progetto TAI insieme al CESTIM e all'Università di Verona perché crediamo che le ragazze e i ragazzi dell'università abbiano grandi potenzialità e possano dare una mano ai loro compagni della scuola secondaria e del secondo grado se hanno delle difficoltà per esempio nello studio. Credo che il progetto TAI sia molto importante per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori ma anche per gli studenti e le studentesse dell'università. Permette ad entrambe le parti di entrare in una relazione che è unica, che è molto particolare e che permette uno scambio, permette un'integrazione, permette la conoscenza di culture differenti di situazioni differenti, anche di contesti di fragilità in cui i ragazzi dell'università grazie al loro background, grazie ai loro studi possono inserirsi e fare un'esperienza diversa. Ho scelto il progetto TAI perché mi ha permesso di avvicinarmi a un mondo molto complesso che è il mondo della scuola con tutte le sue fragilità e bellezze che derivano soprattutto dall'avere un background migratorio e perché puoi davvero fare la differenza nella vita di qualcuno. L'integrazione di studenti immigrati all'interno delle scuole italiane è un problema molto complesso perché ci sono moltissime persone che non comprendono molto i concetti della lingua italiana e un nostro aiuto può essere fondamentale per dare un'opportunità di crescita e di miglioramento e un buon modo per risolverlo attraverso il volontariato. Secondo me è una buona opportunità per mettersi alla prova e per poter esplorare anche background sociali e culturali diversi dal nostro, conoscere persone che hanno vite e abitudini, forme mentis diverse dalle nostre e soprattutto per poter aiutare. Anche l'aiuto più minimo può aiutare le persone a migliorare in modo esponenziale. Grazie.